Ti mancava il colpo di testa, poi destro, sinistro, hai fatto vedere tutto il repertorio oggi? Sono felice perché era da anni che ho sempre lavorato duramente, sono sempre stato preso di mira per sta roba, però sono sempre andato avanti a testa alta e l'importante è come impatti le cose, di destro e di sinistro, dipende da come le impatti, quindi oggi le ho impattate con la cattiveria giusta e con la voglia giusta di far gol e sono contento. Due gol belli tuoi ma anche tutta la costruzione dell'azione perché il primo di destro siamo ripartiti bene dopo averla recuperata e il secondo un bello scambio invece a comballa a limite dell'area? Devo dire che mettendo tanti giocatori da importanti in campo certe cose vengono anche un po' spontanee, è normale che adesso con l'arrivo di Tommy e Bess bisogna anche imparare a conoscersi, però da grandi persone, da grandi calciatori è un attimo poi trovarsi in campo. Una vittoria al di là della tua doppietta che conta tantissimo per te? Si conta per tutto il lavoro che stiamo facendo perché è un mese e mezzo che stiamo facendo delle grandi prestazioni e non riusciamo a raccogliere quello che vogliamo, qua per fortuna c'era anche una bella situazione, un bel campo dove si poteva anche riuscire a giocare in una maniera differente rispetto all'Odi e siamo contenti perché è un lavoro lungo, parte da questo risultato, parte la voglia di voler vincere, più consapevolezza e si va a avanti su questa strada. Questi sono quelli gelosi facendo un'intervista. Ma perché Silvio della Giovanna è abituato a fare doppiette, quindi... Vede il suo record perché sgretolarsi tra un po'. No, però dai, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare in questa maniera. Grazie. 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 Grazie.